La riforma dell'IRPEF, in vigore dall'inizio dell'anno, elimina l'aliquota al 25% e amplia lo scaglione al 23% per i redditi fino a 28.000 euro annui, producendo effetti tangibili già a marzo. Tuttavia, le addizionali locali possono variare, con alcuni consigli comunali che hanno aumentato le percentuali applicate alle pensioni. Il cedolino di aprile sarà disponibile nel proprio portale INPS tra il 20 e il 22 marzo. Si prevedono pensioni più consistenti ad aprile grazie agli aumenti e agli arretrati. L'INPS ha iniziato a erogare gli aumenti previsti dalla riforma dell'IRPEF, con risparmi mensili su diverse fasce di reddito. Nel cedolino di aprile saranno inclusi anche i conguagli IRPEF per coloro che non hanno saldato il debito fiscale del 2023 e le addizionali comunali, le quali avranno un impatto sull'importo netto delle pensioni da marzo fino a novembre 2024. In alcuni comuni si è registrato un aumento della percentuale dell'addizionale comunale applicata alle pensioni rispetto al 2023.